Coach, prima partita ufficiale dell'anno sia per Pistoia che per Trapani, un impatto positivo di Trapani, poi Pistoia che è stata sicuramente più brava di Trapani in questa partita, nel terzo quarto è riuscita a scavare quel solco che poi ha confermato nel quarto quarto e a conquistare meritatamente questa vittoria. Qual è il tuo punto di vista sul match? È stata una partita intensa da parte di tutte e due le squadre, a netto del periodo della stagione, sicuramente noi oggi in attacco siamo stati meno brillanti di quello che secondo me possiamo essere, prova ne è anche un po' le percentuali di altri punti che non ci sono state di grande aiuto, però in una partita in cui non siamo riusciti a giocare una buona palacanestro offensiva, anche per merito ovviamente di Trapani, siamo stati abbastanza solidi difensivamente e la solidità difensiva ci permette poi di provare a competere, di lottare e in questo caso di vincere. Non lo dice lei, lo dico io, Pistoia si presenta quest'oggi a Trapani senza comunque un giocatore americano che vista l'allontanamento di Ola Seguere per motivi personali, è da parte sua sicuramente questo un buon segnale per i margini di crescita della sua squadra? Sicuramente giocare senza un americano in un campionato dove ce ne sono solo due è un buon regalo che diamo agli avversari, adesso speriamo di averlo presto e di riuscire a essere al completo e allo stesso tempo stiamo di avere anche un buon contributo da Magro, che per noi ovviamente è un giocatore importante, ha avuto qualche acciacchino, ma adesso speriamo anche lui di poterlo avere con dei minutaggi un po' più importanti per il tipo di giocatore. e quindi siamo contenti, sappiamo che abbiamo dei margini, abbiamo tanti giovani bravi e dobbiamo solo lavorare. Grazie coach, in bocca al lungo. Grazie a voi.